Quattro arresti, di cui uno effettuato a luglio per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed 11 denunciati all'autorità giudiziaria a piede libero, sequestrati anche 13.000 euro in contanti, frutto inequivocabilmente dell'attività di smercio della droga, oltre al sequestro di 250 grammi di cocaina purissima e 200 grammi di hashish, oltre a individuare 50 consumatori abituali, clienti degli indagati e altrettante persone da individuare, la maggior parte di età compresa tra i 17 e i 27 anni. Questi i numeri di una complessa ed articolata azione investigativa degli uomini della mobile di Pesaro durata 5 mesi e conclusasi il 20 dicembre con l'arresto di tre persone, ma partita a luglio 2019 con l'arresto di uno spacciatore ventenne di origini albanesi trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, oltre a 7.000 euro, frutto dell'attività di spaccio. Partendo da lui abbiamo individuato due sospetti suoi rifornitori e con un'attività tradizionale che si è svolta in gran parte dell'estate lungo le spiagge nel lungomare di Pesaro, abbiamo cercato di risarire la corrente individuando di volta in volta i vari fornitori di sostanza stupefacente. L'ultimo atto di questa indagine si è compiuto il 20 dicembre di quest'anno, quando abbiamo arrestato un cittadino napoletano, pergiudicato, nel momento in cui si stava recando nel luogo di occultamento della sostanza stupefacente in aperta campagna. E poi abbiamo dato esecuzione a una serie di perquisizioni che ci hanno consentito di trarre in arresto altre due persone, altri due cittadini e a loro volta acquirenti di sostanza stupefacente dal primo soggetto e che comunque sia l'acquistavano anche per cederla a terze persone in quantità rilevanti. Questa operazione si inquadra in un più ampio lavoro di presidio e controllo del territorio che ha però evidenziato come da alcuni anni a questa parte si siano incrementati sia il numero degli arresti per droga che le quantità di stupefacente sequestrato, soprattutto cocaina, che arriva nelle nostre città in quantità sempre maggiori. Abbiamo accertato che i più giovani nella fascia di età a ridosso della maggiorità, dei 18 anni, e passavano così in maniera indistinta dall'assunzione di hashish a quella di cocaina. Un'indagine questa della mobile effettuata con metodi tradizionali, con scarse possibilità di effettuare intercettazioni ambientali, dato che seppur giovani di età, gli spacciatori e fornitori e adossuntori hanno utilizzato il meno tecnologico dei metodi, il passaparola. Era la compagnia o il punto di incontro il luogo in cui si prendevano gli accordi a voce e altre attività tecniche che uno può immaginare come intercettazioni non sono state assolutamente d'ausilio perché in realtà il rimando era sempre ci vediamo e poi ne parliamo, quindi se ne parlava sotto l'ombrellone, se ne parlava dentro un bar o in un locale di sera. E noi abbiamo dovuto usare tante ore e tanti occhi per cercare di documentare queste attività.